ciao a tutti e benvenuti cari colleghi in questo nuovo webinar della serie corone lesson questa volta parliamo di verifica attraverso test metodi e valutazioni e alla fine del webinar vedremo brevemente ma in modo efficace come creare un test attraverso google moduli cominciamo con l'esaminare il capire il tema del test come verifica on site cioè il modo tradizionale con cui normalmente un test viene somministrato di solito è l'insegnante che distribuisce i test agli allievi lo può fare a mano e i ragazzi lo compilano oppure li ha preparati online i ragazzi li eseguono attraverso tablet o computer però vedete qui si tratta di una classe la principale caratteristica di questo tipo di verifica somministrata on site all'interno di una classe riguarda il fatto che è centrata sulle misure di controllo eccole qua il test tradizionale comporta appunto misure del controllo da parte del docente e in conseguenza una valutazione rigida misure di controllo e valutazione sono strettamente collegate tra di loro la valutazione dipende essenzialmente dalle misure di controllo cioè dal fatto che il test lo fanno tutti sotto gli occhi dell'insegnante c'è un tempo stabilito non si può sgherrare eventualmente ci sono degli strumenti di supporto non solo per ragazzi in difficoltà di apprendimento ma alle volte anche per tutti fine della questione abbiamo una struttura estremamente rigida proviamo ora a considerare invece il test e le verifiche come degli strumenti per favorire l'apprendimento non come degli strumenti di verifica delle nozioni che sono state apprese attraverso le risposte a un quiz forse la cosa vi sorprenderà ma è molto più interessante esaminare gli strumenti di verifica da questo punto di vista allora in questo caso noi dovremmo distribuire allo studente il test senza le risposte ovviamente prima prima di che cosa prima che si stabilisca una data per la consegna per il ritiro o prima che si stabilisca prima della data stabilita per esempio per effettuare il test in classe sarete stupiti ma come noi diamo in anticipo un test lo studente lo fa a casa poi viene a scuola e lo svolge sì esattamente così e se non lo facciamo a scuola non ha nessuna importanza perché il test online è un sistema cloud per cui rimane lì e noi lo potremo correggere so già che porrete delle domande e la cosa vi sembrerà stravagante intanto vi assicuro che io sono molti anni che utilizzo tecniche di questo genere perché penso che l'insegnante il compito dell'insegnante non sia quello di fare il carabinieri in classe ma quello di creare delle occasioni di apprendimento molteplici occasioni di apprendimento in modo tale da favorire la capacità degli studenti di studiare apprendere e restituire le conoscenze allora torniamo un momento indietro è ovvio che se lo studente dispone di questo test lo potrà rifare tante volte non è un male più rifà il test e più ovviamente c'è la possibilità che ottenga dei risultati positivi si trasforma in questo caso la verifica si trasforma in una opportunità ricapitolando lo studente svolge il test più volte per suo conto la consegna da parte dell'insegnante avviene in anticipo avviene il test viene consegnato senza le risposte ovviamente e viene consegnato con la possibilità ogni volta di vedere il punteggio finale chiaramente ma senza la possibilità di vedere gli errori in modo che lo studente sia costretto a cercare di capire anche confrontando le varie prove i vari tentativi dove sono i suoi errori dove le sue lacune dove deve intervenire e si stabilisce ovviamente un arco di tempo di consegna aiutare lo studente ad apprendere in questo caso ha come caratteristica fondamentale quello di aiutarlo a cercare le informazioni per rispondere e questo spinge avanti il processo cognitivo facciamo un confronto confrontiamo diciamo la somministrazione tradizionale di testa quella che vi propongo io quindi al test come strumento di apprendimento il test come verifica on site a scuola l'insegnante vede che cosa vede vede un momento del processo educativo un momento il momento in cui i ragazzi svolgono il test in che cosa consiste questo momento essenzialmente nella ricerca di risposte si tratta di un apprendimento frammentato frammentato sia per lo studente perché tutte queste risposte diciamo non sono riconducibili lato studente a un insieme di conoscenze a un argomento ma rimangono frammentate perché rimane la risposta a a quello che poi è una sorta diciamo di quiz o di verifica strutturata il cui unico scopo appunto è di cercare la risposta esatta alla tale questione non di avere una padronanza dell'argomento che è stato trattato ma c'è anche un ulteriore frammentazione che è la frammentazione della classe perché se io stabilisco che il test deve essere svolto in un'ora un'ora e mezza quello che è una prova strutturata eccetera io non rispetto i ritmi di apprendimento dei miei studenti e qui e costringo tutti all'interno di di un quadro determinato da una sorta di ansia la che è la caratteristica principale di questo tipo di svolgimento che fa sì che questa prova non sia affatto interessante da un punto di vista educativo per l'insegnante lui pensa che lo sia perché ritira poi vede valuta guarda le risposte c'è te hanno tutti fatto questo errore non hanno capito questo però normalmente il docente non arriva neanche a pensare perché purtroppo conosco tanti casi che forse se c'è stato diciamo una lacuna da in un certo su un certo terreno forse bisognerebbe riprendere in mano questa questione no perché il test è visto come uno strumento per dar voto quindi nel momento in cui lo studente svolge il test e lo consegna e l'insegnante lo valuta la questione chiusa è proprio archiviata invece noi abbiamo bisogno di occasioni per verificare il processo di apprendimento dei nostri studenti e il processo è un processo non è qualche cosa che si verifica distante da noi non deve verificarsi distante da noi normalmente il rapporto con i nostri studenti è tale per cui noi facciamo una lezione loro studiano a casa e poi a scuola fanno una verifica quello che succede nell'intervallo noi non lo sappiamo ma invece quello che succede in questo intervallo di tempo tra la lezione e la verifica quindi diciamo nell'intervallo tra i vari momenti che si svolgono nell'edificio scolastico quello quello che succede al di fuori noi non lo sappiamo non lo sappiamo ed è molto grave perché vuol dire che noi non siamo dentro un processo che è la parte più importante dell'apprendimento dello studente l'apprendimento non avviene a scuola a scuola c'è una sistematizzazione un recupero di nozioni di informazioni ma il vero apprendimento viene a casa quando lo studente mette insieme tutto quanto ci ragiona magari si confronta con i suoi compagni svolge dei compiti e poi viene a scuola per restituirceli quindi il test come verifica on site non è nel modo più assoluto uno strumento educativo e utile per comprendere quali sono i processi cognitivi che vengono messi in atto dai propri studenti invece consideriamolo come strumento di apprendimento abbiamo delle caratteristiche particolari per esempio l'autonomia della ricerca di una ricerca che viene sollecitata perché io non ho un compito che dice informati su questo argomento no io ti do un test che viene valutato questo test a delle domande a dei giochi anche il suo interno poi lo vedremo è articolato dunque tu hai come dire un problema un grosso problema composto da tante parti e questo problema lo devi affrontare e lo devi affrontare con le due due forze certo io ti aiuto perché svolgo la lezione in classe ne parliamo ti do delle risorse ci possiamo sentire abbiamo tutti gli strumenti a disposizione ma sei tu che devi trovare le informazioni adatte per diciamo rispondere alle domande che compongono il test ti aiuta in una impostazione discorsiva perché ti aiuta in una impostazione discorsiva perché mentre nel test on site tu sei concentrato a trovare una risposta e tutto il tuo processo di apprendimento è concentrato a trovare delle risposte sulle possibili domande che potranno essere inserite all'interno del test voi capite che è una follia di frammentazione di è proprio un disequilibrio dei rapporti educativi invece considerando il test come uno strumento di apprendimento quindi che viene fornito prima allo studente lui ha un approccio diverso perché ha un approccio a un contenuto a un contenuto che è articolato in domande ma che deve essere ricostruito come contenuto naturalmente non fa ancora un discorso perché un test è un test ma diciamo adotta un sistema propedeutico al discorso si tratta appunto poi come dicevo dello studio di un argomento e non di una risposta ed ecco qui che l'insegnante all'interno di un processo cioè vede questo processo consideriamo ora la timeline di sviluppo che ci porta a considerare questi test e queste verifiche come degli strumenti delle opportunità narrative allora partiamo ovviamente dalla lezione dal complesso della lezione così come voi lo impostate risorse compiti rinforzi lezione vera e propria poi a questo punto fornite il test lasciando quel tempo affinché gli studenti lo possono provare fare rifare eccetera poi lo correggete ovviamente viene restituito lo fatti in classe come deve essere e a questo punto poi potete anche fornire ulteriori verifiche questo è chiaro però diciamo il processo sembra concluso ma in realtà noi possiamo riaprire la questione perché possiamo riutilizzare il test come strumento proprio narrativo approfondiamo la questione allora prima di tutto il test come opportunità narrativa ha una caratteristica intrinseca che si evidenzia quando quando noi all'interno del test inseriamo delle fonti da commentare per esempio osservate qui commenta questo brano tratto dalla dispensa eccetera martin luther king e via discorrendo lo studente qui ha uno spazio che è un paragrafo molto ampio all'interno del quale devo proprio scrivere scrivere per commentare non è esattamente una domanda a risposta aperta perché non c'è una domanda c'è proprio la richiesta di ritrasformare questo testo in un suo racconto questo è fatto con google moduli perché ci offre questa possibilità di inserire anche un paragrafo piuttosto consistente ma noi possiamo commentare non solo testi anche brani immagini filmati in una risposta aperta perché perché sempre con google moduli possiamo inserire all'interno del test e tutti questi elementi ma questo diciamo avviene all'interno del test quando abbiamo finito tutte le operazioni lezione verifica somministrazione bla 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 noi possiamo ancora riprendere in mano questo test e dire agli studenti allora cari ragazzi trasformate per esempio le prime 12 domande in un racconto per fare questa operazione che è molto importante perché capite che lo studente prende quelle domande come se fossero una scaletta e le utilizza per scrivere la sua storia di quei contenuti ma per fare questo noi dobbiamo essere capaci di strutturare il test non come una successione di domande separate le quali dare una risposta ma come qualche cosa di articolato di articolato che parte da una premessa poi via via si sviluppa va a toccare un punto importante che perché dovete mettervi nella logica che il test non è formulato per verificare qualche cosa ma è formulato per aiutare i ragazzi a studiare per aiutare i ragazzi a padroneggiare dei contenuti quindi noi dobbiamo proprio entrare in questa logica e pensare a come un po per volta organizzare cioè come organizzare questo test in modo che un po per volta si arrivi a strutturare tutto l'argomento e questo ve lo consiglio caldamente quindi trasformi in un racconto un certo numero di domande in successione che voi indicherete un altro elemento molto importante che aiuta gli studenti proprio a sviluppare la capacità di risolvere problemi a spingere avanti le capacità intellettive degli studenti riguarda la gamification cioè l'utilizzo del test che già si avvicina abbastanza al gioco ma proprio come un elemento di gioco la gamification è quel sistema che prevede l'utilizzo di giochi all'interno di un procedimento didattico c'è un apprendimento che avviene anche attraverso il gioco osservate questo esempio questo esempio fatto con book widget che un'applicazione straordinaria interessantissima che io uso molto spesso anzi ho acquistato anche la versione completa e una delle opportunità che possiamo avere quella di inserire la fonte completa quindi tutta una parte di una dispensa di un contenuto e poi organizzare i giochi dall'altra parte vedete non si tratta proprio di domande risposte si tratta proprio di giochi articolati su dei contenuti questo tipo di test dura un po di tempo perché lo studente deve continuamente fare riferimento alla fonte e poi dopo di che naturalmente ci pensa elabora studia e svolge il compito però una cosa non così complessa ma possiamo avvicinarci e la possiamo fare anche con moduli di google perché perché le fonti le fonti corrispondono a tutta una serie di elementi che noi possiamo inserire immagini video link pagine web mappe concettuali perché noi le abbiamo creata facciamo la foto dello schermo la trasformiamo in un'immagine la collochiamo all'interno quindi tutto è possibile la gamification cioè la possibilità di apprendere attraverso formule di gioco è uno strumento molto utile e i test possono essere un po piegati sul lato gamification un po anche come abbiamo visto prima nella slide precedente che opportunità abbiamo in questo caso per esempio questo è stato creato con book widget qui potete fare una prova inquadrate con qualcuno fate clic qui sul link quando avrete le slide la gamification cioè l'articolazione appunto di una didattica fondata su giochi presenta una ampia varietà creativa che permette uno sviluppo cognitivo permette di sollecitare il pensiero divergente offre delle occasioni di flessibilità permette di mettere di fronte allo studente problematiche come la soluzione di casi e così via è veramente molto interessante ora abbiamo delle applicazioni come per esempio appunto book widget oppure caud per esempio che ha una certa varietà di elementi che possono andare in quella direzione dobbiamo tenere conto che un principio importante della gamification in questo caso è il tempo quindi l'assegnazione di un tempo stabilito al test siccome stiamo parlando di test online non tutte le applicazioni forniscono questa opportunità book creator book widget si per esempio caud anche come potete vedere ma google moduli no per il momento però noi possiamo utilizzare le opportunità che ci offre moduli per combinare un test che sia caratterizzato da una certa creatività e da un certo livello di giocabilità diciamo così dunque adesso vediamo rapidamente come è possibile creare un test con google moduli naturalmente ci sono un sacco di tutorial guide eccetera eccetera io sarò breve voglio solo puntualizzare però delle questioni importanti allora prima di tutto voi create il vostro compito scegliete moduli e va bene sarete su questa schermata scrivete il titolo perfetto ma prima di cominciare a selezionare gli elementi che comporranno il test vi dico subito di andare nelle impostazioni devi stabilire che si tratta di un quiz cioè trasformi quel modulo che stai facendo in un quiz in un quiz dove puoi decidere alcune cose per esempio se pubblicare il voto qui è selezionato come successivamente dopo la revisione manuale perché magari ho inserito molte risposte aperte quindi vanno corrette però guardate che è preferibile da fare in modo che lo studente abbia subito un punteggio poi lui in questo caso sa più o meno calcolarsi anche se ha di fronte delle risposte aperte quindi che vanno ancora valutate però una base a una base di ragionamento che a noi interessa perché stiamo facendo quell'operazione di cui vi ho parlato prima della possibilità dell'utilizzo del test come strumento di apprendimento poi qui anche importante chi risponde può visualizzare cioè lo studente cosa visualizza alla fine del test le domande senza risposte risposte corrette no visualizza solo il valore in punti lui non deve sapere che cosa ha sbagliato se no diciamo perdiamo lo scopo di spingerlo alla ricerca al miglioramento della sua performance diciamo così una volta che avete stabilito che questo modulo è un quiz quindi avete attivato lo slide qui troverete che vi compare all'interno dei vari elementi che inserirete questa voce che la chiave di risposta che vi consente di inserire stabilire il punteggio per quella data domanda e di stabilire qual è anche la risposta esatta quindi selezionerete la casella della risposta esatta e stabilirete i punti per esempio stabilirete che non so un semplice euro falso può valere un punto oppure usate altri criteri in base ai contenuti quello che volete voi quindi avrete punti differenziati a questo punto inserirete le vostre domande guardate che ce ne sono alcune interessanti per esempio la scala lineare vi propone un indice di gradimento fatto sapete le famose 5 stelle 5 punti eccetera può essere utile per stabilire il per avere un feedback che per esempio su determinati gusti degli studenti ma anche per valutare determinati contenuti poi avete la griglia a scelta multiple e la griglia con casella di controllo queste griglie sono interessanti perché vi consentono di stabilire una visione un po diversa rispetto alla solita domanda e lì potete giocare un po perché è interessante mettere a confronto all'interno di una di una matrice degli elementi che si intersecano colonne righe un'altra cosa da fare è attivare l'obbligatorietà della risposta il test non va avanti non può essere consegnato no va avanti ma non può essere consegnato se non sono state date risposte a tutte le domande e quindi voi potete anche però decidere che alcune domande non sono obbligatorie in questo caso voi starete costruendo un test che ha delle differenze in classe per cui potrete dire che alcuni studenti dovranno svolgere a tutte le domande anche quelle non obbligatorie facoltative altri invece no google moduli sempre impostazioni questa volta siamo nella scheda impostazioni generali raccogliete gli indirizzi email e ricevute di risposta sempre d'accordo e poi però apportate modifiche dopo l'invio quindi i ragazzi possono svolgere più volte il test e poi potete anche scegliere di ordinare le domande in modo casuale però attenzione perché se il test è uno strumento di apprendimento e non di verifica in questo caso beh voi dovete aiutare i vostri studenti però i casi possono essere più diversi perché se il test interviene dopo una serie di lezioni approfondimenti e così via che voi reputate più che sufficienti allora potete mettervi alla prova a sollecitare i ragazzi complicando un po' tutta la questione mostra link per inviare un'altra risposta certo perché possiamo naturalmente dargli l'opportunità di ripetere eh tutto e poi eh cioè recupera il link e recupera anche l'oggetto all'interno di drive questo avviene con l'opzione invia quando avete completato tutto fate così invia invia e vedrete che potete recuperare il link questo vi può servire non so per inserirlo dentro una pagina web eh mandarlo a un collega anche di un'altra scuola che ne so può essere utile recuperatelo eh in realtà non avete bisogno per somministrare il test perché perché il test è dentro drive quindi il vostro drive ma non solo abbiamo visto all'inizio che abbiamo aperto un nuovo compito e abbiamo scelto di creare il test proprio associandolo a questo nuovo compito quindi è automatica poi l'erogazione del test nei confronti degli studenti che sono iscritti al vostro corso adesso una questione importante perché che è quella del controllo delle risposte e quindi delle vostre valutazioni le risposte vengono raccolte attraverso un foglio di calcolo questo foglio di calcolo si attiva ehm nella nella pagina del test stesso quindi quando voi lo state costruendo nella voce risposte voi fate clic sulla voce risposte e poi attivate questo pulsantino che è il pulsantino di creazione di questo foglio di calcolo e poi a mano a mano saranno inserite le risposte qui allora cosa vi suggerisco di fare siccome lo studente dovrà inserire il suo nome e il cognome sarà facile ordinarli tutti per cognome per ordinarli voi farete clic sulla casella nome classe quello che avete inserito questo è mia io ho detto solo di inserire il nome e classe ma voi potete dire nome e cognome e direte di ordinare il foglio dalla z in questo caso così voi avrete in ordine non so rossi e avete tre rossi non so rossi 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 perfetto questi tre rossi corrispondono a date differenti in cui il test è stato sviluppato dal dallo studente e quindi potete proprio valutare il processo e capire anche il progresso che lo studente ha avuto e poi potrete parlare con lui per capire ancora meglio vi suggerisco anche di selezionare alcune risposte e quelle significative o non so gli errori eccetera lo farete con gli strumenti che avete qui sono gli stessi in sostanza che trovate anche in word e così via col secchiello riempite di colore se lo riempite di giallo altrimenti non se si mantiene la risposta e poi potete attraverso la lima video proiettore eccetera quando sarete in classe proiettare se siete a distanza allora potrete in videoconferenza se che è sempre un'opportunità che vi offre google moduli potrete incontrare i vostri studenti e commentare queste risposte oppure fate degli screenshot oppure mandate condividete questo foglio con tutti lo mandate in modo che si abbia una visione dell'andamento e si possa poi esaminare discutere con i vostri allievi bene abbiamo terminato poi su come creare altri testi in modo creativo anche con altre applicazioni eccetera organizzo altri interventi in seguito insomma approfondiremo vedremo se ci sono delle domande le ponete all'interno della nostra piattaforma e e questo è tutto vi auguro buon lavoro e buoni test grazie a tutti Grazie a tutti.